Oggi la nostra Cidioce si festeggia la memoria di Sant'Erenzio, patrono e martire e primo vescovo di questo territorio, di questa città. È un'occasione quando mai propisia per rafforzare la fede ma anche per far sì che la Chiesa locale si ponga di fronte alle realtà di oggi. Abbiamo una società totalmente diversa, una società trasformata che chiede una nuova evangelizzazione e Sant'Erenzio che è stato il primo vescovo e martire e quindi il primo evangelizzatore può e deve essere un esempio di coraggio, anche di intelligenza per questo compito che oggi è affidato alla Chiesa e alla Chiesa di Pesaro. Uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore. O Signore, diventa il tuo popolo ai passi della vita.